sette segreti ma invadi che nessuno ti ha mai svelato prima segreto numero uno non sei rotta funzioni perfettamente accettazione e guarigione quando abbiamo a che fare con un disagio continuo cronico con alti e bassi dove i bassi precisiamolo sono spesso comunque dolore tendiamo a prendercela con noi stesse a rimproverarci a dirci ecco sei rotta non funzioni sei difettosa questo senso di essere rotte ci fa correre ovunque verso qualsiasi cosa prometta di aggiustarci siamo convinte che se solo riuscissimo a gestire meglio tutto questo non avremo tutta questa difficoltà e potremo liberarci di ciò che ci limita come fastidiose e noiose pietre che ostacolano il nostro cammino ciò che è produttivo sapere ricordare che non sei affatto rotta funzioni perfettamente perché insistere e persistere su questo perché continuare a ripeterlo crea per te nuove connessioni neuronali ricabla il sistema mente corpo così hai molte più opportunità di solidificare in modo duraturo e stabile la tua guarigione inoltre questo è l'atteggiamento che massimizza e velocizza il percorso di guarigione e mantenimento della salute il segreto numero uno è che hai bisogno di continuare a ripeterti che sei perfetta così come sei milioni di volte e con tutte le risorse che rafforzano questa verità e questo è un mind body tool basato sulla neuroplasticità non hai bisogno di aspettare di essere guarita per meritare amore e accettazione di te stessa e dell'esatto punto in cui sei proprio ora ricorda sei perfetta e accettazione e perfezione vanno a mano nella mano quando hai a che fare con il dolore pelvico cronico smetti di stressarti su questo punto non c'è nulla che non va in te e accetta il punto in cui sei ora solo per ora infatti se non accetti te stessa e il punto in cui sei sei in fight or flight e in fight or flight il tuo corpo non può guarire avrai più passi indietro che in avanti e invece hai bisogno di puntare al un passo indietro e due in avanti e alle danze e di questo ne ho parlato già molti anni fa riesci a metterti davanti allo specchio proprio ora guardarti negli occhi e dirti ti voglio bene sei adorabile perfetta così come sei se noti resistenza quali idee pensieri credenza limitanti autosabotaggi stai mettendo a te e la tua guarigione segreto numero due allena la tua autorità è fondamentale che tu assuma la tua autorità in merito al tuo corpo e alla tua salute perché solo tu sei in principio nel mezzo e in fondo la migliore esperta su di te prenditi del tempo per ascoltare percepire il tuo corpo i suoi messaggi e capire qual è il miglior medico trattamento professionista che è il meglio per te oggi connettiti con persone empatiche e rispettose che sappiano ascoltarti è importante creare un dream team di guarigione dove al centro ci sei tu e il tuo corpo segreto numero tre non permettere a nessuno di dirti che colpa tua o altre stupidaggini nemmeno a te stessa prima di tutto molto spesso visto e sentito professionisti incolpare le donne per non essere in grado di calvarsi e guarire o per alcune modalità di reagire e mi è anche capitato a un importante convegno medico di sentire cose assurde in non riuscire a comprendere e ad aiutare un genera frustrazione se non viene insegnato come processare la frustrazione e ad accoglierne il prezioso messaggio la persona incolpa l'altro della propria inadeguatezza terapeutica e nonno nessuno può capire quello che stai passando meglio di te non dimenticarlo tu sei l'autorità non prenderla sul personale quando qualcuno ti dice cose del genere questo ti aiuterà a schivare una sofferenza ulteriore completamente inutile e che non ti appartiene è dell'altro non tua non prenderla mai a titolo personale quando qualcuno pronuncia un commento ignorante cioè privo di conoscenza passa oltre non ti serve tutta la tua attenzione energia va a te al tuo corpo e ai tuoi bisogni segreto numero 4 le risposte sono dentro al tuo corpo non sottovalutare la capacità del tuo corpo di guarire con il metodo giusto e le circostanze adeguate specificatamente sperimenta se comprendere e dissolvere la strategia della tms o mind body syndrome strategy se applica in tutto o in parte anche al tuo caso in ogni caso avrà l'effetto collaterale di creare una nuova te più sana più serena più forte con autostima e alta auto efficacia e quindi sarai di conseguenza più libera di creare la vita che vuoi segreto numero 5 una pillola non è un passepartout il nostro attuale modello culturale generalmente ci indottrina a prendere una pasticca per sistemare un dolore problema fastidio così elimineremo il disagio questo modo di considerare la questione di fatto ci rende vittime perché ci ruba il potere di cambiare le cose dall'interno e ci costringe a pensare che il corpo ha un sacco nero sotto a cui capitano cose brutte incontrollabili e misteriose e noi siamo qui la testa inermi e in difese alla per favore toglimi di torno questa roba a vent'anni era una costante per me mal di testa? pasticca mal di pancia? pasticca il pensiero fisso era non ho tempo per stare male detesto stare male certo il comportamento era guidato dall'intento di farmi del bene e avere cura di me ovviamente ma è proprio il concetto di male come qualcosa da annientare e non sentire che mi alienava completamente da una parte di me e non me ne sono mai 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 reso conto finché non è iniziata la saga delle sette miracchiese con la vulvodinia che per definizione non è riservibile con una pillolina procedura e via quando passarono i mesi mi capì che non era affatto un fastidio che potevo eliminare subito con una pasticchina un bicchier d'acqua o una lavandina o una cremina cominciarono i sudori freddi per me non potevo eliminare il problema così facilmente panico, disperazione segreto numero 6 il corpo non mente sviluppai molta molta rabbia a partire dall'epoca delle mestruazioni ero sempre stata una ragazzina ultra vivace i miei stessi compagni degli elementari si ricordano bene della mia via allora quando mi accorsi che con le mestruazioni se facevo di corsa 10 metri per prendere al volo l'autobus mi sentivo male fino quasi a svenire cominciai a provare una rabbia spettacolare ma cosa succede corpo dorato mi stai tradendo mi stai mettendo una palla al piede non potevo più correre come prima proprio io che ho sempre amato correre ma il corpo ha sempre logiche e ragioni che la ragione ignorante non comprende e se non lo ascoltiamo il messaggio dovrà essere gritato più forte più forte più forte per arrivare alle nostre orecchie continuiamo a non vederlo e si ingigantirà non puoi tappargli la bocca con una pasticca o una polverina per la cistite questi possono essere ausili aiuti ma non bavagli e siccome il corpo è tuo amico farà di tutto per recapitarti il messaggio vitale che hai bisogno di ricevere io sapevo già ascoltare il mio corpo in modi molto sottili e sofisticati tutti noi sappiamo farlo specie da bambini il messaggio di allora era qualcosa di importante per me specificatamente era che no, non stavo rispettando i miei tempi e no, non stavo seguendo la mia via lo sai casa è dove si trova il cuore sembrerebbe che per proseguire su una strada sbagliata ho dovuto perdere la mia città i miei amici e molto altri almeno fino a ora lo sai l'amore e ogni altra cosa comprese le assenze è eterno finchè dura no e allora e allora tanta roba infatti quante volte il nostro corpo che è un'immensa parte di noi comunica per noi ciò che la nostra lingua si rifiuta di dire ciò che taci con la lingua il corpo parlerà la mente con le sue psicorotolo balle mente monumentalmente il corpo non può mentire ha senso? ti torna? ti suona familiare? segreto numero 7 lascia andare ciò che non ti serve più lascia andare quello che un tempo sì ti è stato utile e per cui no non potevi fare diversamente ma ora ora che non ti serve più lascialo andare così facendo smetterai di trattenere strattonare e tirare la corda perpetuando un tiro alla fune snervante e che non serve a nulla se non a mantenerti nel dolore molla lascia andare e velocizzerai la guarigione in modi impensabili fino a 3 secondi fa caveat per favore come sempre non prendere mai 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 per orocolato le mie parole sperimentalo su di te onora te stessa ciò che ami e ti piace fare onora le tue difficoltà e il modo in cui le hai attraversate e le stai attraversando e sei sopravvissuta perché non è da tutti e no non è per niente facile e tu sei straordinaria nessuno sta passando quello che stai passando tu non dimenticarlo mai ti meriti ogni bene possibile sister fa un passettino alla volta ogni giorno nasce per te una straordinaria opportunità di crescita e guarigione per prenderti cura di te e tutta un'altra vita è proprio qui che ti aspetta buon cammino anima bella spread the love sister condividi 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 le risorse del blog questo video e tutte le risorse mind body con altre donne che stanno lottando contro il dolore pelvico guarire è possibile e insieme è più facile un abbraccio da Elena come sempre www.aidablanchett.com